In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Maria Sede Sapientiae, ora Pronobis. Continua la vita di San Benedetto, scritta da San Gregorio Magno. Quattordicesimo episodio, Scolastica. Gregorio Chi mai, Pietro, sarà stato in questa vita più grande di Paolo? Eppure per ben tre volte egli pregò il Signore di liberarlo dal pungolo della carne e non potè ottenere ciò che voleva. A questo proposito devo raccontarti come anche il grande Padre Benedetto volle qualcosa che non potè ottenere. La sua sorella di nome Scolastica, consacrata al Signore Onnipotente fin dalla più tenera età, soleva fargli visita una volta all'anno. L'uomo di Dio scendeva ad incontrarla in una dipendenza del monastero, non molto lontano dalla porta. Un giorno, dunque, come di consueto, ella venne, e il suo venerabile fratello, accompagnato da alcuni discepoli, scese da lei. E quando ormai stava per calare l'oscurità della notte, presero cibo insieme. Sedevano ancora a mensa, conversando di cose sante, e ormai s'era fatto tardi, quando la monaca, sua sorella, lo supplicò dicendo, Ti prego, non lasciarmi questa notte, rimaniamo fino al mattino a parlare delle gioie della vita celeste. Ma egli le rispose, Che dici mai, sorella? Non posso assolutamente trattenermi fuori dal monastero. Il cielo era di uno splendido sereno, ma vi si scorgeva, non vi si scorgeva neppure una nuvola. Udito il rifiuto del fratello, La monaca pose sulla mensa le mani, intrecciando le dita, E reclinò il capo su di esse, per invocare il Signore Onnipotente. Quando rialzò la testa, Si scatenarono tuoni e lampi così violenti, E vi fu un tale scroscio di pioggia, Che né il venerabile Benedetto, Nè i fratelli che erano con lui, Poterano mettere piede fuori della casa in cui si trovavano. La Vergine consacrata, Reclinando il capo sulle mani, Aveva sparso sulla mensa, Un tale fiume di lacrime, Da volgere in pioggia con esse, Il sereno del cielo. E la pioggia torrenziale, Non seguì di qualche tempo la sua preghiera, Ma fu ad essa simultanea, A tal punto, Che mentre ancora la donna alzava il capo dalla tavola, Già scoppiava il tuono. Tutto avvenne nel medesimo istante, Col sollevare del capo, La pioggia incominciò a scrosciare. L'uomo di Dio, Vedendo che in mezzo a tali lampi, Tuoni, E tanta inondazione d'acqua, Non poteva affatto ritornare al monastero, Cominciò a rammaricarsene, E rattristato, Le disse, Dio onnipotente ti perdoni, Sorella, Che hai fatto? Ma ella rispose, Vedi, Io ti ho pregato, E tu non hai voluto ascoltarmi, Ho pregato il mio Signore, Ed egli mi ha esaudita, Ora esci, Se puoi, Lasciami pure, E torna al monastero, Ma egli, Non potendo uscire dal coperto, Fu costretto a rimanere a suo malgrado là, Dove non aveva voluto fermarsi, Di sua spontanea volontà. Passarono così tutta la notte, Vegliando, E saziandosi reciprocamente, Di sante conversazioni, Concernenti la vita dello spirito. Per questo ti avevo detto, Che vi fu qualcosa, Che l'uomo di Dio, Pur volendolo, Non potè ottenere. Se infatti consideriamo la sua intenzione, Appare in tutta evidenza il suo desiderio, Che il cielo si mantenesse sereno, Come quando era sceso dal suo monastero. Ma contrariamente a quanto desiderava, Egli si trovò davanti a un miracolo, Operato per potenza di Dio, Dal cuore ardente di una donna. E non c'è da meravigliarsi, Se in quell'occasione potè di più la sorella, Che desiderava trattenersi più a lungo con lui. Secondo la parola di Giovanni, Infatti, Dio è amore. Per giustissimo giudizio, Dunque, Potè di più Colei che amò di più. Pietro, Ti confesso che quanto dici, Mi piace molto. Gregorio, Il giorno seguente, La venerabile donna, Ritornò alla sua cella, E l'uomo di Dio al suo monastero. Ed ecco, Dopo tre giorni, Mentre stava nella sua cella, Benedetto alzò gli occhi, E vide l'anima di sua sorella, Uscita dal corpo, Penetrare sotto forma di colomba, Nelle misteriose profondità del cielo. Pieno di gioia per tanta gloria, Egli ne rese grazie a Dio onnipotente, Con inni di lode, E comunicò ai fratelli La notizia della sua morte. Anzi, Mandò subito alcuni A trasportare il suo corpo Al monastero, Per deporlo nel sepolcro, Che egli aveva preparato per sé. E così, Essendo sempre stati Un solo spirito in Dio, Neppure i loro corpi Furono separati Nella sepoltura. Sia lodato Gesù Cristo, In nomine Patris, E fili e spiritus santi. Amen.